ben trovati a tutti voi eccoci pronti per un nuovo approfondimento per il nostro instant focus che oggi vede sicuramente al centro dell'attenzione uno degli argomenti cruciali del periodo in realtà è uno degli argomenti cruciali di un bel po di tempo però adesso occorre accelerare per quello lo definisco cruciale del momento e allora lo vedete anche dal nostro titolo in sovrimpressione principi ISG quando un'azienda può dirsi sostenibile intanto diciamo subito che è un tema che riguarda la nostra economia nostra intesa come economia del paese ma poi più nello specifico delle aziende a 360 gradi e allora nel titolo stesso troviamo proprio le parole chiave del discorso sostenibilità e criteri ISG appunto non possiamo più prescindere da questi temi e noi vogliamo affrontare questo discorso con diversi punti di vista attraverso diversi punti di vista quello del mondo legale quello del mondo del mercato quotato e quello del mondo del mercato non quotato e nel corso di questo nostro appuntamento vi spiegheremo nel dettaglio perché e dove vogliamo arrivare intanto introduco saluto e ringrazio i miei ospiti che sono in studio con me a partire dall'avvocato Gianluigi Serafini buongiorno avvocato LS Lexiustin Acta grazie per essere con noi buongiorno grazie a lei per l'invito Sara Lovisolo Head of ISG Development di Amundi SGR ben trovata grazie anche a lei per essere presente e Federica Loconsolo Head of Institutional Investors and ISG Riello Investimenti SGR Buongiorno e questi sono i tre mondi di cui parlavamo partiamo dal mondo legale e partirei proprio con lei avvocato facendole prima una domanda molto secca e poi entrando un po' nel merito è corretto dire che il 2023 in effetti è stato un anno cruciale in tema di sostenibilità ai criteri ISG perché ho detto nell'introduzione è un tema in realtà che tiene banco da tanto tempo però ora si sta un po' accelerando ed è giusto che sia così rispondiamo a questo e poi spieghiamo perché e parliamo di una direttiva che è entrata in vigore proprio all'inizio dell'anno diciamo che in Europa si sta accelerando perché questo è uno dei grandi temi del mondo ISG dove noi vediamo velocità diverse tra Stati Uniti, Europa, Asia quindi anche qui nasce un problema di compatibilità e anche di competitività dei vari mercati in Europa sicuramente l'accelerazione è forte, la direttiva che è stata applicata estende l'obbligo delle dichiarazioni non finanziarie alle aziende anche di medie dimensioni e questo fa sì che secondo quello che poi è un principio generale del sistema normativo europeo si parte da una casistica grande cioè della grande dimensione poi un po' alla volta si va a inquadrare la parte normativa portandola in un allargamento ad ombrello sostanzialmente su tutto il ciclo produttivo e questo è un fenomeno che abbiamo già visto in altre occasioni ma mai in un settore così invasivo come può essere quello di una trasformazione industriale come quella che è imposta da questo settore quello che vedo nell'analisi che stiamo un po' immaginando è che questo passaggio dalla grande azienda alla piccola media impresa e al tessuto imprenditoriale italiano sia molto complesso c'è un fattore di rischio nell'applicazione di questa norma e di impreparazione cioè la mia impressione è che le imprese e i loro professionisti siano ancora molto molto preparati rispetto a quello che devono andare Ecco avvocato perché il primo gennaio leggo proprio per chi ci ascolta per entrare ancora più nel merito è entrata in vigore una nuova direttiva europea che lei citava correttamente assolutamente sulla rendicontazione non finanziaria che ampia questo perimetro di aziende che devono redare l'informativa di sostenibilità perché dal primo gennaio 2024 l'obbligo passa a tutte le grandi imprese quotate e non perché anche questo bisogna specificarlo e poi dal 2026 coinvolgerà anche le piccole e medie imprese quindi in apertura io parlavo proprio di aziende a 360 gradi e lei stava già parlando di quelle che sono effettivamente le ricadute possibili è complicato è vero sono d'accordo è complicato e c'è un rischio che l'imprenditore e il suo consulente la veda come un altro orpello di compliance inutile come un costo e non una possibilità e questo è un grosso problema e l'altro problema che stiamo vedendo nel lavoro che stiamo facendo tutti i giorni sulle imprese è che si tenderà sempre più a far sì che le dichiarazioni non finanziarie siano un modello pro forma non una vera rendicontazione finanziaria cioè il problema della piccola impresa tante volte è non avere un aggravio di costi che non riportino un'utilità complessiva quindi la dichiarazione non finanziaria che invece vedremo ha un'importanza fondamentale perché è la disclosure, la trasparenza, tutto quello che è la vita dell'azienda e che i suoi stakeholders devono sapere in realtà rischia di diventare l'ennesima modulistica compilata in sede di bilancio così come i bilanci tante volte oggi sono una rappresentazione delle piccole e medie imprese molto contenuta cioè abbiamo un mondo molto eterogeneo dalla grande impresa alla piccola impresa e trasformare la stessa normativa sicuramente ha degli impatti non secondari solo quando l'imprenditore capirà che quella dichiarazione non finanziaria fatta bene ha un valore positivo sul suo prodotto e sulla sua capacità di stare sul mercato probabilmente farà un salto di qualità se no rischia di essere solo un onore e non un onore come lei diceva l'ennesima carta inutile di una burocrazia sentita come l'ennesima carta burocratica che porta via tempo così come abbiamo fatto con i modelli organizzativi così come abbiamo fatto con i modelli 231 sulla responsabilità delle imprese e si andrà a fare delle strutture a ciclo stile no no assolutamente questa è la realtà che abbiamo vissuto bisognerà anche capire forse avvocato glielo chiedo poi passo agli altri ospiti insomma se ci sono aziende soprattutto quelle più piccole che sono effettivamente strutturate per poter gestire anche quest'altro aspetto no perché come ha detto lei sarà uno un compito in più dipende dalla cultura dell'imprenditore perché in realtà molte delle informazioni alcune aziende hanno già fatto e hanno elementi ISG perché poi il mondo si è già cioè basta descrivere tante volte quello che si è fatto ma anche questo non è semplice no e soprattutto ci vuole un parametro di misurazione di quello che si è fatto e del progetto migliorativo implementativo perché questo diventa la vera scommessa all'interno dell'azienda certo passerei la parola a Federica Loconsolo perché il mercato non quotato parliamo di questo attualmente non ha l'obbligo di reporting ma quindi in attesa poi di capire come e cosa succederà con i cambiamenti come si fa a questo punto misurare ed esprimere una valutazione su criteri ISG su sostenibilità oggi come facciamo a renderci conto di quello che fa in sostanza un'impresa certo no la domanda è molto interessante tra l'altro l'avvocato mi lancia una palla diciamo molto molto utile perché è esattamente quello che noi facciamo nel nostro quotidiano perché invece siamo proprio nella PMI non quotata sicuramente sono aziende piccole sono aziende non soggette oggi ad obbligo di rendicontazione non finanziaria ma non dimentichiamoci però che in Italia rappresentano il 90% della nostra economia in buona sostanza abbiamo secondo alcuni dati si parla di anche 80.000 piccole e medie imprese in Italia poi probabilmente quelli oggetto di investimento da fondi di private capital come noi sono ovviamente molto meno perché non consideriamo le imprese familiari ma a livello di tessuto produttivo italiano l'82-85% della forza lavoro in Italia è allocata nella piccola e media impresa per cui tutto anche la mole normativa che citava l'avvocato giustamente prima che è stata comunque pensata e studiata in sede europea si applica più facilmente a imprese di più grandi dimensioni da questo punto di vista l'Italia è un caso probabilmente unico all'interno dell'Europa perché forse la Germania ha un tessuto produttivo così frammentato più o meno come il nostro ma non così tanto come noi la PMI è la struttura portante dell'economia italiana quindi a maggior ragione anche quando parliamo di sostenibilità dobbiamo necessariamente calare tutti i ragionamenti sulla dimensione della PMI allora venendo alla sua domanda come si può in assenza di obbligo di rendicontazione capire dove sta la trasparenza ed è molto interessante proprio farlo noi come SGR abbiamo introdotto un nostro modello interno che abbiamo strutturato perché ci siamo basati sul fatto che sui mercati quotati di sostenibilità si parla ormai da circa 20 anni per cui c'è una pratica, c'è un linguaggio, c'è una best practice, c'è una conoscenza per cui noi abbiamo creato tutto il nostro modello di analisi che però è solo nostro come azienda sulla base di quello che sui mercati internazionali si applica alle imprese quotate ma lo abbiamo necessariamente dovuto applicare a realtà molto più piccole che non hanno magari team di sostenibilità che hanno capacità di investimento molto più basse che hanno imprenditori, cioè strutture organizzative spesso a gestione familiare quindi la parte interessante anche se vogliamo e secondo me molto utile di operatori come noi è anche proprio il ruolo che noi abbiamo nello sviluppo culturale se mi passate questo termine della PMI italiana che oggi si vede magari sommersa da una mole regolamentare o anche soltanto dalla minaccia di un futuro obbligo normativo e si trova impreparata culturalmente quindi siccome in realtà noi vediamo che nella prova dei fatti molte aziende sono già oggi gestite in modo virtuoso con l'imprenditore illuminato se ci pensiamo bene il concetto di sostenibilità è un concetto di in buona sostanza secondo anche la definizione delle Nazioni Unite il curare il benessere delle generazioni future o meglio curare il nostro benessere senza dover rinficiare le generazioni future che è se ci pensate bene il principio della sana gestione aziendale per cui l'imprenditore che vuole passare ai propri figli la propria impresa spesso è già illuminato da questo punto di vista ecco l'assist che le ha passato l'avvocato esatto non parla quella lingua l'avvocato infatti diceva dipenderà molto dal singolo imprenditore quanto riuscirà a entrare in questo nuovo meccanismo non la volevo interrompere era solo proprio un sottolineare perché abbiamo detto parliamo con mondi diversi però in realtà poi c'è sicuramente un'associazione unica stava terminando? no 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 è esattamente questo che volevo appunto sottolineare il ruolo culturale nostro anche di appunto passare alla PMI terminologie che magari fino a questo momento sono appannaggio di realtà più grande esatto e poi vabbè ritorniamo sempre al discorso che facciamo spessissimo PMI l'ossatura del paese quindi ancora di più l'attenzione deve essere dirottata lì Sara Lovisolo allora io in apertura ho usato la parola cruciale anche forse più di una volta ma appositamente no è vero una ripetizione mi perdoneranno i puristi della lingua non si dovrebbe però la parola cruciale secondo me è quella più adatta cruciale per le aziende lo stiamo già dicendo e lo abbiamo detto con chi l'ha preceduta ma anche per gli investitori che devono sempre essere più trasparenti devono essere come dire portati a un reporting standardizzato sempre più netto perché esiste un regolamento adesso lascio a lei la parola questo che effetto ha anche per l'investitore stesso? allora l'investitore ha in un certo senso la responsabilità di creare quel caso quel business case che serve alle società perché l'esercizio di fare reporting non sia puramente una formalità un adempimento credo che il primo caso d'uso di questi dati che vengono pubblicati dalle società quotate e speriamo anche dalle società private sia che renda più facile per le società avere accesso al capitale, ai investimenti non soltanto dagli investitori anche le banche sempre di più hanno bisogno di informazioni per rispettare impegni che hanno preso ma anche scelte di lungo termine che tutelano i risparmi che molto spesso sono gli stessi investitori finali a voler investire in asset che tengono in considerazione gli obiettivi di lungo termine quindi questi dati vengono utilizzati dagli investitori per effettuare scelte di investimento come descriveva Federica che sono costruite intorno alla disponibilità di informazioni quello che è successo da un paio d'anni è che gli investitori rendono conto adesso dell'uso che fanno delle informazioni dell'uso che fanno degli asset nella costruzione di prodotti che vengono offerti sia a investitori istituzionali ma anche a investitori retail quindi in banca adesso i consulenti chiedono al cliente se ha preferenze di sostenibilità e i consulenti devono cercare nel momento in cui il cliente dica sì, io sono interessato a investire in modo sostenibile di dare una risposta a questo bisogno con dei prodotti quindi i prodotti adesso hanno una loro carta d'identità che prevede tutta una serie di indicatori di sostenibilità che devono essere alimentati dalle informazioni, dai dati che provengono dagli asset finali quindi fondamentalmente dalle società per cui c'è un bisogno fortissimo degli investitori di rintracciare queste informazioni in un modo che sia confrontabile e chiaramente l'avvocato sottolineava all'inizio che ci sono delle discrepanze tra paesi e tra giurisdizioni per cui avremo in Europa una situazione in cui le società dovranno fornire tantissime informazioni la stessa cosa non avverrà in tutti gli altri paesi quindi chiaramente è un grande vantaggio quello di poter accedere a queste informazioni fornite da parte delle società gli investitori poi devono fare uno sforzo degli investimenti per recuperare queste informazioni da tutti gli asset in cui investono quindi questo dal punto di vista dell'organizzazione, del processo di investimento è un impegno organizzativo come abbiamo visto anche prima notevole perché bisogna creare modelli creare modalità di raccolta delle informazioni di verifica delle informazioni che richiedono competenze, risorse e investimenti organizzazione culturale partiamo da lì mentale insomma prima dobbiamo cambiare modo di guardare insomma come poi strutturare il lavoro stesso come ci ha assolutamente spiegato molto bene Sara Lovisolo avvocato ritorno da lei perché chiaramente è già emerso questo concetto parlare di sostenibilità ci fa parlare anche proprio di una nuova cultura lavorativa lo abbiamo detto se noi prendiamo l'acronimo ISG prendendo proprio i punti in italiano parliamo di tutela dell'ambiente tutela della società quindi delle persone eccetera e poi c'è il tema dell'etica e della trasparenza la governance appunto il tema ambientale potremmo dire in Italia probabilmente anche altrove però parliamo del nostro paese è sicuramente predominante possiamo però dire al lato opposto che invece la G, la governance è quella di cui si parla meno è d'accordo? domanda numero uno e domanda numero due che è conseguenziale perché? ma guardi io ho iniziato a occuparmi di ISG nella nostra struttura sono il responsabile del dipartimento di capital market e in generale di corporate e mi occupavo mi occupo tradizionalmente di M&A e quotazione sì facendo questo ovviamente la curiosità e la necessità poi di dar vita a un dipartimento ISG è stato forte e sul tema governance quando abbiamo iniziato a ragionarci si è aperto il baratro perché sulla IE e sulla S si trova di tutto sulla governance c'era il vuoto e io devo dire peraltro sono direttore di un corso proprio sulla governance delle imprese di famiglia alla Bologna Business School e abbiamo iniziato a cercare di capire perché anche pubblicazioni anche ricerche c'è veramente poco la governance è sempre stata intesa un po' in generale voglio dire dall'applicazione della parità di genere o qualcosa di mutuato nell'ambito della società regolamentate però in realtà non è quello che intende la normativa e nelle analisi che abbiamo fatto ci siamo anche abbastanza divertiti prendendo gli assessment di alcuni anche nostri competitor che lavorano in materia ISG e abbiamo visto che non so un assessment generale sulla IELS sono 730-800 quesiti che vengono fatti sulla governance erano 18-25 di una banalità fuori misura lavorandoci sopra cercando di fare un prodotto integrato siamo arrivati a circa 170 acquisiti quindi un 20% rispetto a quello che è il monte delle domande di un assessment ma perché perché abbiamo cercato di immaginare che cosa volesse dire questa governance lì dentro quando parliamo di sostenibilità in generale dell'azienda vuol dire sì il rispetto dell'ambiente del mondo del lavoro ma creare i presupposti per la continuità diceva giustamente prima nel tempo dell'azienda e uno degli elementi fondamentali per la continuità nel tempo dell'azienda è l'analisi dei rischi quindi quando parliamo di governance dobbiamo sì vedere come è composto il consiglio di amministrazione in una PMI quanti sono che hanno il consiglio di amministrazione? poche quanto è vero è la qualità di quel consiglio di amministrazione? spesso sono marito moglie e due figli per avere i compensi parità di genere assolutamente se c'è una moglie l'abbiamo messa dentro perché questa è la realtà con la quale dobbiamo lavorare cioè perché poi si possono fare grandi schemi mentre il tema della compliance e quindi di avere comunque all'interno dell'azienda una struttura di presidio del rischio e oggi guardate che quando si parla di azienda il presidio del rischio è fondamentale perché gli economisti parlavano del cigno nero cioè con l'eventualità che capitava teoricamente che non si poteva controllare negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto uno dietro l'altro siamo popolati di cigno cioè dobbiamo cercare il cigno bianco cioè questo questo vuol dire che l'azienda deve proprio fosse anche grigio mi permette la battuta ci potremmo accontentare qualche volta allora questo vuol dire che il modello di gestione dell'azienda deve completamente cambiare quindi l'analisi deve andare in questo focus però attenzione quello che volevo mi richiamavo un po' al problema di prima le aziende saranno non capiscono fanno fatica a capire che questo questa normativa ha un'invasività totale perché avranno due pressioni che porteranno gli obblighi al di là della legge e della loro volontà il sistema bancario che gli imporrà di adeguarsi per poter avere dei finanziamenti già adesso c'è uno 0,60 0,70 per cento di costo del denaro diverso se si è un soldi voglio dire per un'azienda ma l'altra cosa che dimenticano è la struttura delle filiere in Germania è già stata approvata una normativa con l'obbligo di filiera ISG e quindi dato che l'80 per cento delle nostre piccole e medie aziende sono aziende subappaltatrici che lavorano in filiera di grandi gruppi si troveranno costrette così come hanno fatto quei processi di qualità adeguarsi alle politiche ISG di quel gruppo perché quel gruppo dovrà rendicontare il sistema fino alla fine con un'unica differenza che un modello organizzativo è facile una trasformazione di cultura imprenditoriale è molto complessa e se quello che ti dà il lavoro ti impone di doverlo fare e non sei pronto allora sono problemi che si esce dal mercato allora questo è quello che è un tema che diventa di sostanza questo punto si esce dal mercato il rischio insomma è molto molto pesante quindi di conseguenza bisogna considerarlo sicuramente ci ha fatto bene Avvocato a diciamo portarlo in superficie perché è una delle cose credo che bisogna valutare principalmente e se Avvocato ha concluso almeno questo discorso mi serve diciamo quello che ha detto per dare la parola a Sara Lovisolo per restare un po' ancora su questa G di governance perché abbiamo detto insomma è uno dei parametri meno diciamo meno chiacchierati meno discussi però scopriamo che in realtà è estremamente rilevante e anche parlando ancora degli investitori visto che già prima con lei ne stavamo parlando agli investitori arrivano report completi che riguardano tutti i parametri non è che si può non si scinde no questo acronimo resta questo e quindi i report devono essere effettuati su tutti e tre i parametri che uso fanno questi investitori dei dati forniti dalla società cioè mi piacerebbe comprendere anche il passaggio guardi utilizzo ancora questa parola perdonatemi cruciale della trasformazione del dato poi in prodotto perché questo credo che sia anche un altro aspetto che va chiarito allora tutti i dati sono importanti quello che gli investitori fanno però è di pesare quindi dare un'importanza ai vari elementi a seconda dell'industria di cui fa parte un'azienda per cui quello che facciamo si chiama analisi di materialità è un fondamento di qualsiasi valutazione ESG di una società si basa questa analisi su due aspetti e si parla in Europa di doppia materialità perché si valuta sia il rischio che l'azienda ha nel non tenere in considerazione alcuni aspetti di sostenibilità sulla propria profittabilità sulla propria sopravvivenza nel lungo termine ma si valuta anche l'impatto che trascurare alcuni aspetti di sostenibilità può avere sulla società sull'ambiente per cui questa analisi di materialità è invariante rispetto non è come dire fatta su misura per la singola società dipende dall'industry per cui è importante che le società siano consapevoli di questo che cioè non hanno una libertà totale nel definire quali sono gli aspetti più importanti ma che guardino a quello che fanno i propri peers quindi le società della stessa industry e parlino con per esempio come giustamente ha sottolineato l'avvocato anche con i loro clienti perché il cliente soprattutto per le società più piccole chiaramente è più esposto se è una società quotata se è una società grande a questa analisi di doppia materialità già effettuata dagli investitori quindi è come se ci fosse una cascata dell'analisi di materialità dalle società più grosse a coinvolgere quelle più piccole questa analisi di materialità porta poi a pesare i vari indicatori in modo diverso ma per arrivare a una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità di una società che nel momento in cui la strategia di investimento sia di integrazione degli indicatori ESG all'interno della politica di investimento può influenzare la decisione di includere o no quella società in un portafoglio a seconda della strategia oppure di includerla poco piuttosto che di avere una grossa esposizione a quella società quindi vengono quantitativamente poi trasformate queste informazioni in punteggi in score che influiscono la decisione di investire in un bond o nelle azioni di una società e analogamente si sta muovendo un po' tutto il mercato perché comunque appunto non è ormai questa una modalità che è limitata agli investitori ma una modalità che poi viene in un certo senso si sta amplificando si sta amplificando anche ad altre fonti di finanziamento perché anche le banche sempre più stanno considerando per cui la G importa la governance assolutamente è un indicatore molto importante è un indicatore molto importante di qualità del management quindi è come se fosse una proxy della bontà gestionale dell'azienda per cui per quanto non sia eroica la governance perché non si sta chiedendo e non se ne parla e per questo è il motivo per cui l'imprenditore cioè il fatto di avere un presidente che non coincida con l'amministratore delegato sembra poca cosa in una comunicazione di marketing basata sulla società non se ne parla ed è per questo che viene sottovalutata fa molto più presa altro insomma sì perché comunque sembra amministrativa una cosa del genere esatto anche il fatto non so di avere il modello 231 che comunque è un fattore di buona organizzazione della società non è spendibile ed è per questo che probabilmente venga un po' relegata nell'ombra rispetto agli altri dimensioni che sono la dimensione ambientale quella sociale ecco un altro assist per la dottoressa lo consolo perfetto perché restiamo ancora sulla gd governance quando parliamo rispetto al mercato quotato se parliamo di mercato non quotato dobbiamo fare altre distinzioni perché per esempio il board di una piccola media impresa può essere composto da una persona e allora questo e quindi torniamo anche a quello che diceva come riuscite a esprimervi in termini di valutazione proprio di questa gd questa governance sì infatti noi siamo proprio un caso a sé stante rispetto sì ci siamo interrogati molto proprio su come noi potevamo valutare la gd governance proprio perché il caso esatto molto importante che faceva Sara prima della suddivisione per esempio dei ruoli tra presidente e amministratore delegato da noi spesso proprio non si pone e allora abbiamo identificato diciamo abbiamo tradotto la gd governance per quanto riguarda i nostri modelli di analisi di sostenibilità con un concetto più ampio di governance della sostenibilità cioè per noi quello che noi andiamo ad analizzare è come la sostenibilità entra nei processi aziendali cioè quanto l'imprenditore e il management sono sufficienti evidentemente aperti ai temi della sostenibilità da appunto includerla nei propri processi aziendali quindi se ci sono piani di sviluppo se ci sono business plan magari anche che riguardano la parte ambientale però insomma che il tema della sostenibilità quanto insomma il tema della sostenibilità sia un tema effettivamente che permea l'attività aziendale e questo noi vediamo che sembra diciamo magari leggera come tipologia di analisi ma non lo è proprio perché stiamo parlando di aziende piccole dove molto spesso la sostenibilità viene vista appunto come dicevamo all'inizio magari più come un costo che come un'opportunità e quindi tutto il nostro modello di analisi è basato anche sulla parte ambientale e sociale sulla suddivisione del concetto di rischio e opportunità quindi i rischi di sostenibilità e l'opportunità di sostenibilità anche sul tema governance perché il fatto giustissimo che citava l'avvocato cioè il fatto che la PMI spesso è fornitore di un'azienda più grande oggi soggetta a normativa è sicuramente un potenziale rischio ma è una grandissima opportunità nel senso che se oggi che è un po' quello che stiamo facendo noi tornando al tema della governance le aziende cominciano oggi a strutturare i propri processi interni per arrivare a una rendicontazione a una trasparenza a fare il report di sostenibilità su base volontaria cioè cominciano ad attivare ad avviare le macchine sui temi della sostenibilità sono sicuramente arrivano preparati al momento in cui saranno obbligati a farlo ma oggi hanno un vantaggio competitivo rispetto magari alla stessa azienda della stessa industria che non si pone il problema e quindi questo è estremamente importante quindi noi nella nostra attività poi diciamo noi per struttura il private capital investe pensiamo al private equity noi investiamo in aziende di cui acquisiamo la maggioranza per cui una volta scelto l'investimento noi rimaniamo investiti per anni non possiamo alleggerire bisogna prestare proprio attenzione a quello esatto però il lato molto positivo di tutta questa diciamo vicenda è il fatto che noi essendo poi gestori attivi perché siamo azionisti di maggioranza nella maggior parte dei casi possiamo iniziare attivare il processo che viene chiamato di engagement per cui noi e torno al discorso culturale che facevo prima con il nostro team e il nostro ruolo di investitore è anche proprio quello di formazione di una competenza interna a livello aziendale che poi si declinerà nella governance e che poi attendere quando l'azienda magari crescerà o insomma o diventerà più matura organizzata eccetera eccetera possa poi rappresentare al meglio tutti i temi che per esempio sul mercato quotato sono poi valutati ci riporta un po' la cultura da cui siamo partite se posso fare una battuta sono comunque per esperienza una mosca bianca rispetto al mondo dei fondi perché noi vediamo raramente quando un fondo acquista che abbia nelle sue due diligence il tema ISG a noi siamo una mosca bianca voi siete una mosca bianca voi siete una mosca bianca siete consapevoli in senso positivo perché è il mondo dei fondi che ha fatto magari raccolta ISG quando acquista non fa neanche le due diligence ISG figuriamoci ecco questo per dire è qui noi chiediamo molto abbiamo questionari molto importanti bene bene che sia da esempio diciamo che poi questi nostri approfondimenti oltre a voler comprendere maggiormente delle questioni che magari sono un po' più macchinose vogliono anche essere da esempio beh qui se posso scusare noi ci crediamo molto e questo se vogliamo anche un invito ai nostri colleghi gestori perché effettivamente la sostenibilità oggi è uno strumento importantissimo di creazione di valore cioè diciamo il nostro presente e il nostro futuro passa per la sostenibilità volenti o nolenti in Europa per cui è un driver fenomenale di creazione di valori dedicazione di nuovi posti di lavoro i giovani le tecnologie cioè si potrebbero aprire capitoli infiniti quindi allora stiamo parlando di buone pratiche adesso parliamo invece di cattive pratiche perché si parlava di cultura adesso parliamo di non cultura insomma potremmo andare da una parte all'altra della questione avvocato riparto da lei per parlare del greenwashing perché ci sono di furbi pieno il mondo partiamo da questa considerazione beh parliamo di pratiche scorrette da parte di alcune aziende insomma ovviamente poi dobbiamo fare delle distinzioni non si può mai fare tutta un erbo un fascio però c'è chi effettivamente pratiche scorrette le mette in atto ci sono dichiarazioni incomplete prive di dati prive di prove insomma quando c'è una finta facciata di sostenibilità e di rispetto di questi criteri di cui stiamo parlando questo è il greenwashing possiamo dire vediamo se possiamo ricavare una bella notizia da questo che con la nuova direttiva si vuole contrastare il greenwashing e forse con questa nuova direttiva potremmo farcela intanto diciamo che una volta tanto la direttiva andrà a recepire cose che è già possibile fare in Italia ok quindi voglio dire siamo forse più avanti dalla direttiva nel senso che questo è un tema dal punto di vista giuridico uno dei pochi temi sexy quando si parla con l'imprenditore perché parlare di greenwashing vuol dirgli delle opportunità cioè una parte è l'analisi del rischio di come ad esempio la comunicazione di quell'impresa che sta facendo che vuol dire la comunicazione come pubblicità il packaging o altro possa fargli incorrere in un rischio certo ma vuole anche dire fare un'analisi del competitor e vedere se i tuoi competitor invece sono in corso nel greenwashing perché la normativa italiana da questo punto di vista è già particolarmente avanti perché da un lato assimila questo al mondo della concorrenza leale alla giurisprudenza e quindi è già possibile intervenire con due fattori uno da parte anzi tre fattori uno da parte dell'antitrust che ha il compito di poter sanzionare dal punto di vista amministrativo i comportamenti di concorrenza leale quindi abbiamo già alcune pronunce dell'antitrust in materia ma è ancora più interessante la possibilità ad esempio che un imprenditore poi farò un caso che abbiamo visto anche recentemente possa fare un'azione anche d'urgenza per concorrenza leale nei confronti di un altro imprenditore che invece ad esempio fa attività di greenwashing quindi ad esempio mette questo è un esempio una l'abbiamo assistito una causa nell'ambito della beauty che produce bagni schiuma un concorrente è uscito nella grande distribuzione con delle confezioni in cartone e quindi perfette peccato che aprendo il cartone sotto c'era la plastica allora questo esempio lo porto perché è un esempio eclattante in cui si è ottenuto un provvedimento inibitorio alla condotta e alla distribuzione addirittura del prodotto ma la cosa più importante è il fatto di oscurare sul sito dell'azienda e far pubblicare sul sito dell'azienda l'ordinanza del giudice voi capite che se arriva un'ordinanza che sul sito di un'azienda di un online c'è scritto che è vietato il giudice ha disposto la sanzione per tre mesi di pubblicare l'ordinanza bla 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 capite il danno commerciale che ne può derivare l'altro elemento che non dobbiamo trascurare il ricepimento proprio da pochi mesi in Italia della possibilità delle azioni collettive cioè la class action che è completamente cambiata in un'ipotesi di concorrenza sleale che è l'ipotesi di cui stiamo ragionando è applicabile anche alle azioni collettive mondo ancora inesplorato ma che ad esempio in coloro che fanno prodotti di grande consumo o di grande distribuzione pensiamo non so tutto il campo farmaceutico la parte della distribuzione alimentare o quant'altro il rischio di un'azione collettiva per un'azienda può veramente diventare un elemento di chiusura dell'azienda quindi il tema greenwashing diventa un tema di analisi del rischio quindi noi ad esempio lavoriamo a fianco dell'imprenditore della struttura di comunicazione e di tutta quella che è la struttura che in qualche modo gestisce la fase produttiva per avere una rivisitazione del rischio legale della struttura greenwashing poi fanno un'analisi competitiva del mercato ed eventualmente si può valutare o meno la possibilità di interagire sotto questo profilo quindi diciamo che è un elemento la direttiva non farà altro che recepire e applicare in modo un po' più delineato a livello comunitario dei temi che però oggi noi in Italia siamo già in grado di procedere senza aspettarla diciamo che si metteranno ulteriormente i puntini su lei mettiamola così però siamo avanti questa vede che le avevo chiesto una buona notizia me ne ha date due in realtà perché già siamo avanti e in più questa direttiva potrebbe aumentare questo e allora ci avviamo a conclusioni però anche con Sara Lovisole e Federica Loconso voglio capire cosa ne pensano rispetto a questo fenomeno al greenwashing se questa ambizione la definisco così avvocato non so se poi il termino giusto è reale e cosa ne pensate insomma partiamo da Lovisole e poi la dottoressa Loconso Allora la direttiva di cui parlavamo all'inizio quindi questa direttiva sulla trasparenza delle società prevede anche una serie di standard quindi ci saranno degli standard che danno indicazioni precise su come comunicare alcuni indicatori allora questo aiuterà moltissimo nell'evitare quello che a volte sono veramente degli equivoci delle incomprensioni tra chi pubblica un'informazione e come questa informazione viene recepita perché si sottovaluta molto spesso da parte di chi pubblica impegni o definisce caratteristiche dei propri programmi aziendali si sottovaluta la componente tecnica un esempio quando si dice abbiamo un programma per ridurre le emissioni di carbonio della nostra società di CO2 che sono le emissioni responsabili del riscaldamento climatico si sottovaluta il fatto che ci siano tantissimi tipi di emissioni che quindi gli impegni possano essere fissati sulle emissioni per esempio solo dirette di una società piuttosto che su quelle indirette che su quelle legate alla catena del valore se non si è precisi nell'indicare il tipo di target e di obiettivo la comunicazione può dar luogo a interpretazioni erronee quindi il fatto che lo standard che accompagna la direttiva specifichi molto bene i vari dettagli da fornire quando si proclama un impegno per esempio alla decarbonizzazione secondo me aiuterà molto a rendere più chiari i messaggi e meno e meno equivocabili a incanalare meglio il discorso come dicevamo prima mettere i puntini su lei lo consolo io mi associo appunto a quanto detto prima aggiungendo un piccolo aspetto secondo me importante che riguarda proprio il caso delle PMI il greenwashing diciamo si lega tantissimo ai fattori di rischio reputazionale ovviamente delle aziende così collegate al proprio territorio al proprio diciamo ai propri clienti in senso ampio che sia il cliente azienda o il cliente singolo in una struttura ripeto come l'Italia che è sostanzialmente fatta di PMI il rischio reputazionale è sicuramente quello che è più difficile diciamo cioè si possono prevenire una volta che c'è veramente recuperare diventa uno sforzo enorme e quindi diciamo non è interesse di nessuno e il più grande amico io penso del greenwashing penso che sia la fretta soprattutto penso appunto alle PMI cioè pensare che sia necessario fare tutto subito scadenza fra sei mesi non è così io penso almeno noi come operatori così ci poniamo sull'argomento io penso che sia indispensabile la gradualità giusta anche in sede europea per esempio si parla di concetti di proporzionalità e gradualità per quanto riguarda ovviamente le imprese più piccole per cui è giusto che le imprese approcciano il tema nel modo corretto che prima lo capiscano e poi agiscano senza appunto farsi pendere dalla fretta di dover mettere sul sito una certa cosa perché se no il rischio comincia anche perché poi le cose negative restano e poi tornare indietro è vero che esiste la rettifica si può spiegare si può cambiare però insomma come il rischio reputazionale è la cosa più grave perché poi rimane quello non ci si fida più è il tema della fiducia voglio dire poi in un momento come quello che stiamo vivendo oggi credo che sia fondamentale quando si parla di sentiment se quello si mantiene alto in generale a 360 gradi abbiamo fatto già un ottimo un ottimo lavoro ne abbiamo terminato e sono effettivamente state messe sul tavolo tante questioni che spero come dicevo poco fa possano essere un po' da esempio per chi ci ascolta ma anche per darci concedetemi questa questa chiusa un po' di coraggio perché abbiamo anche scoperto che siamo avanti su certi temi su certe questioni non è vero che no siamo sempre indietro rispetto a quello che succede nel mondo ma in Europa se vogliamo ovviamente circoscrivere poi il discorso allora facciamoci forza di questo e sappiamo che dobbiamo per rafforzare il nostro inizialmente ho parlato di economia del nostro paese di sistema paese poi ovviamente di ogni singola impresa che contribuisce all'economia del paese rafforziamolo in questo modo cioè credendo nelle potenzialità che abbiamo e poi ovviamente adeguandoci a tutte le nuove regole barra disposizioni che però ci auguriamo ecco questo è l'augurio così abbiamo messo tutto ci auguriamo possano aiutarci non metterci in croce visto che abbiamo analizzato anche questa questa possibilità quindi grazie all'avvocato Gianluigi Serafini davvero grazie per averci dato la visione del mondo legale così ripercorriamo i mondi iniziali grazie a Sara Lovisolo mondo del mercato quotato grazie anche a lei grazie a Federica Loconsolo mondo invece del mercato non quotato insomma tutti aspetti interessanti grazie e grazie a tutti voi per averci seguiti con il nostro Instant Focus a presto grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti